Vabbè, mi fido di te, poi torno. Eccoci, riprendiamo la trasmissione, io do la parola a Salvatore Antonaci che sei un po' spaventato per questa cosa. Solo un po' però. Solo un po'. Parola a Salvatore Antonaci che farà la rassegna stampa internazionale, intanto io mi assento per qualche minuto. Ok. Ti metto in 3D così eventualmente se puoi far vedere anche lo schermo puoi far vedere anche i giornali. Vabbè, nulla di eccessivamente complicato, altrimenti qui… Ok. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori, non tantissimi ma sono convinto che cresceranno, numero zero della web tv radicale, rassegna stampa internazionale che cercherò di rendere quanto più avvincente possibile, insomma, nonostante il poco tempo avuto per preparare il tutto, insomma. Diciamo subito che quest'oggi andremo a vedere un po' di giornali dell'area spagnola, ci occuperemo essenzialmente di due paesi che pur essendo abbastanza diversi come dimensioni, anche come peso specifico, però hanno dei tratti in comune abbastanza importanti. Mi riferisco alla Spagna di José Luis Zapatero e al Belgio, insomma, che in queste settimane sta vivendo momenti molto delicati. Cosa hanno in comune questi due paesi? Essenzialmente sono stati investiti in pieno dalla crisi finanziaria esplosa, come tutti sappiamo dall'indomani, del crollo fragoroso del fallimento di Lehman Brothers. Ed erano due tra le economie, assieme all'Irlanda, fra le più dinamiche del continente. Nel caso della Spagna, se ricordate bene, era stato definito dai media un vero e proprio miracolo economico, tant'è che ad un certo punto vi fu addirittura tutta la polemica innescata dal famoso sorpasso che il PIL spagnolo aveva operato nei confronti di quello italiano. Quei momenti sono abbastanza lontani perché, come ripeto, la Spagna è stata forse il paese che è stato investito con maggiore, purtroppo, vigore dalla crisi finanziaria internazionale, anche per un modello di sviluppo che, per certi versi, puntava molto sull'immobiliare che, come è noto, è stato uno dei comparti che da subito ha iniziato a precipitare. Tant'è che il tasso di disoccupazione spagnolo, che era un fiore all'occhiello attorno al 10% rispetto ai numeri di un passato abbastanza recente, si è subito riportato attorno al 20%. Di fronte a tutto questo il Premier spagnolo, José Luis Zapatero, è stato accusato di immobilismo. A dire la verità è un'accusa che gli proviene da tutti e due fronti, non solo da quello scontato dell'opposizione di centro-destra del Partito Popolare, che naturalmente non perdo occasione per mettere in cattiva luce l'operato del governo socialista, ma anche da stessi ambienti della sinistra, del PSOE, del Partito Socialista Spagnolo, ed è naturalmente dell'altra formazione di sinistra, ancorché minoritaria spagnola, che è la schierda unita, raccoglie un po' i riduci del comunismo e ambienti ecologisti. Zapatero è stato accusato di immobilismo e in queste settimane sta cercando di reagire, naturalmente poi vedremo nel medio termine se questa strategia avrà funzionato. La situazione al momento è plasticamente evidenziata dai sondaggi di tutte le case spagnole che praticamente indicano un precipitare della popolarità del Premier, però nonostante contestualmente non abbiamo una impennata, questa può essere una buona notizia per Zapatero, non abbiamo una buona impennata contestuale dell'intenzione di voto per l'opposizione. Il segnale principale è quello naturalmente di una caduta del credito di tutta la classe politica spagnola nel suo complesso, ma questo ovviamente è una questione che riguarda più o meno tutti i paesi occidentali investiti dalla crisi e non solo la Spagna. Dunque, lo scorso fine settimana si è svolto il Comitato federale del PSOE che praticamente è l'organo più importante di governo del Partito Socialista Spagnolo, ripeto che è il partito che governa la Spagna dal 2004, dopo naturalmente il congresso che si svolge ogni due anni. In questa prestigiosa assise appunto Zapatero ha cercato di rilanciare la propria strategia annunciando delle importanti riforme per quanto riguarda l'economia del paese iberico. Innanzitutto, secondo Zapatero, non è più rinviabile una riforma previdenziale, una riforma pensione. Il Premier Spagnolo ha indicato, ha ribadito quello che molti analisti facevano già notare da tanto tempo, cioè che l'età media della popolazione in Spagna si è notevolmente accresciuta come d'altronde in tutti i paesi occidentali e quindi occorre senza alcuna remora porre mano al modello previdenziale che come quello di molti paesi si basa ancora sul metodo della ripartizione e non su quello contributivo. Questo naturalmente ha scatenato tutta una serie di proteste, di manifestazioni di piazze che naturalmente avranno un prosieguo nei prossimi mesi. Dunque, appunto, dicevamo del Comitato federale del PSOE dove appunto Zapatero ha annunciato secondo il Paese, che è il quotidiano di riferimento spagnolo, tradizionalmente filosocialista, quindi in questo caso è abbastanza vicino alle posizioni di Zapatero, da uno sguardo piuttosto, un'analisi piuttosto benevola di questo intervento, soffermandosi appunto su questa decisione del primo ministro spagnolo di uscire un attimino dall'unpass in cui appunto dicevamo era stato respinto dall'inforiare della crisi. Naturalmente viene riportata una delle frasi più importanti dell'intervento di Zapatero, praticamente afferma che noi dobbiamo difendere con orgoglio l'idea della Spagna che possa non escludere nessuno dal benessere. Proprio questa è l'idea guida del metodo di governo zapateriano, quello appunto, un tentativo di includere quanto più possibile pezzi di società nel modello di welfare aggiornato, diciamo aggiornato ai tempi, anche se i tempi sono appunto quelli che sono come dicevamo e quindi purtroppo è proprio il sistema welfareistico che appare in crisi nonostante i tentativi di riforma e questi tentativi di riforma potrebbero essere anche purtroppo tardivi, questo naturalmente vedremo nei prossimi mesi. L'altro argomento molto importante su cui si è soffermato Zapatero nel suo intervento, anche se con meno intensità e con meno spazio a confronto con la crisi economica, naturalmente è quello dell'assetto istituzionale spagnolo, sapete naturalmente che la Spagna è una delle nazioni che ha una struttura federale che tende sempre a correre il rischio della frammentazione, perché ovviamente oltre al decennale il problema della minoranza basca che come ben sappiamo porta come retaggio purtroppo anni e decenni di terrorismo e di lutti non solo nelle province basche ma anche in tutta la Spagna, c'è anche la patata bollente della Catalogna, la Catalogna anni fa ha votato uno statuto con forti connotazioni autonomistiche e una sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo che l'equivalente della nostra Corte Costituzionale ha scatenato un putiferio, perché settimane scorse il Tribunale Costituzionale spagnolo ha affermato che lo statuto di autonomia catalano non può essere applicato nella sua integrità e questo naturalmente ha scatenato la reazione di tutte le forze politiche della provincia della Catalogna, compreso il partito socialista della Catalogna che si è smarcato un attimino dalla posizione nazionale, quindi tutti i partiti all'unisono hanno votato nella Comunità Generale di Catalogna, cioè il Governo autonomo spagnolo, una mozione nella quale contro l'intervento della sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo affermavano che ferma intenzione della Comunità Generale catalana dare piena attuazione e compimento allo statuto nazionale. Addirittura qualcuno come i partiti più vicini alle posizioni indipendentiste come le schierre repubblicano e catalane, che è un partito sì di sinistra ma è un partito fieramente autonomista ai limiti dell'indipendentismo, ha proposto una mozione molto più radicale che chiedeva la convocazione di un referendum popolare per chiedere il distacco da Madrid la piena in questo caso indipendenza della Catalogna. Senza poi contare naturalmente oltre a questo agitarsi delle forze politiche c'è stata anche una impressionante manifestazione di piazza che ha portato circa un milione di persone di tutte le fede e convinzioni politiche a manifestare nel centro di Barcellona e questo proprio mentre la Spagna coglieva uno dei suoi più grandi trionfi sportivi proprio nei giorni della meritata vittoria agli ultimi campionati del mondo e quindi è stato un contraltare piuttosto surreale vedere da una parte le scene del trionfo nel massimo, uno dei massimi consensi sportivi mondiali e dall'altro notare come questo paese in realtà è molto più fragile di quanto appaia ed è minato da queste spinte centrifughe. Poi naturalmente tal'uno potrebbe vedere appunto come positive queste prese di posizione, questo spirito di autodeterminazione delle varie comunità locali, ma questo ovviamente è un altro discorso, naturalmente sui giornali non traspare molto. Quindi dicevamo il Paese da appunto in questo articolo da una visione piuttosto, non dico edulcorata però tutto sommato positiva come quella di un premere tutto sommato alla situazione sotto controllo, anche perché noi vediamo benissimo che la Spagna ultimamente non se la sta passando bene, non ultime gli istituti che rilevano il rating del Paese esprimono costantemente l'intenzione di voler ulteriormente abbassare l'affidabilità del debito pubblico spagnolo, quindi si tratta di momenti piuttosto critici. Passando dal Paese filo governativo, filo socialista da sempre, al più moderato di area liberal conservatrice che è il mondo, l'altro grande quotidiano spagnolo e il mondo ci dà un'interpretazione un attimino più, se vogliamo, più maliziosa, però naturalmente anche questa sembra legittima. Dall'intervento del mondo riprende appunto lo stesso intervento di Zapatero al Comitato generale del Partito, al Comitato federale del Partito Socialista, ma mette in risalto una frase dell'intervento di Zapatero nella quale il Premier afferma che vi saranno alcuni aggiustamenti fiscali perché non vi sia nessuno che non paghi secondo giustizia, quindi è una frase piuttosto sibillina che lascia intendere la possibilità che vi sia una impennata fiscale nei prossimi mesi, quindi è ricorso a uno degli strumenti classici degli stati in difficoltà naturalmente oltre a quello di tagliare le spese e quello naturalmente di agire anche sulla leva del fisco, quindi di aumentare tasse e tributi magari introducendo quella che con una definizione magari un attimino infelice viene definita un contributo di solidarietà, tassa sui ricchi eccetera eccetera, che come diciamo legioni di economisti non necessariamente ultraliberisti affermano, non ha dato mai grandissimi risultati per quanto riguarda il gettito fiscale, ovviamente aumentando la pressione fiscale non è detto che il gettito fiscale aumenti, mentre per converso è possibile che diminuendo, abbassando la liquida fiscale si possa avere un sostanzioso rientro, in tutti i manuali di economia viene riportata come teoria. Dunque nel mondo si sofferma su questo zapatero che sibillinamente promette sudore, lacrime e sangue e minaccia un po' tra virgolette la classe media spagnola di futuri sconquasi fiscali, questo ovviamente rispecchia un po' la posizione del mondo che è ovviamente molto più attento al mondo dell'imprenditoria, della finanza, della grande industria, il contraltare al discorso inclusivo socialista che facevamo, quindi è l'altra posizione della dialettica politica spagnola, naturalmente la Spagna è un paese che tendenzialmente è bipartitico, da una parte ovviamente ci sono i socialisti e dall'altra l'opposizione liberal conservatrice impersonata dal Partito Popolare guidato da ormai parecchi anni da Mariano Ravoi, l'eterno secondo battuto già due volte da Zapatero, l'immagine un po' di un partito, di un'opposizione che non riesce a darsi un volto nuovo e quindi a recuperare in termini di credibilità quello che il governo socialista ha perso, quindi questa è una situazione di sostanziale un pass della Spagna, naturalmente poi vedremo le prossime settimane, ovviamente seguiremo e ritorneremo sull'argomento. Altro paese che vive contingenze simili dal punto di vista economico e anche dal punto di vista istituzionale è il Belgio, il Belgio è andato alle urne circa due mesi fa, maggio quasi in coincidenza con le elezioni olandesi e il risultato delle urne è stato piuttosto contraddittorio, ha lasciato i risolti i nodi che si agilano già da diversi anni nel piccolo paese, è un po' il cuore dell'Unione Europea perché è stato tra i soci fondatori dell'Unione Europea e ospita le più importanti strutture dell'Unione Europea come l'Europarlamento si divide tra Bruxelles e la francese Strasburgo. Il Belgio praticamente dicevamo si è andati alle urne e cosa è successo? Praticamente c'è stata l'affermazione molto molto importante quasi travolgente di un partito chiaramente che si esprime su posizioni indipendentiste o perlomeno su posizioni che reclamano una forte autonomia per la zona delle fiandre. Il Belgio è diviso in due grandi zone linguistico-culturali che sono le fiandre, si rifanno all'Olanda piuttosto che alla Francia, mentre la Francia ovviamente è il modello di riferimento della Vallonia che è la zona francofona. Questa unione tra le due comunità ha iniziato a vacillare già da diversi anni e nell'ultimo periodo la crisi sembra precipitare, nel senso che molti analisti belge internazionali si spingono ad affermare che nello spazio di pochi anni se non di pochi mesi il Belgio potrebbe essere uno Stato che non esisterebbe più, nel senso che potremmo avere una secessione che divide i due componenti dello Stato belga. Naturalmente queste elezioni di maggio non hanno fatto altro che acuire la crisi, perché dicevamo c'è stata la forte affermazione degli indipendentisti fiamminghi nel collegio elettorale delle fiandre, il partito Nuova Alleanza-Fiamming ha raggiunto quasi il 30% del primo partito a livello nazionale e ovviamente il primo partito nelle fiande. Per converso nella zona francofona si è assistito alla vittoria del partito socialista dell'ex premier Reglio di Rupa e naturalmente ha delle posizioni molto differenti da quelle della Nuova Alleanza-Fiamminga cerca appunto di salvare l'unità nazionale. Dopo il voto c'è stato affidato al grande vincitore delle elezioni, Bart De Weaver, il presidente del partito della Nuova Alleanza-Fiamminga un mandato esplorativo e naturalmente ci sono state tutta una serie di consultazioni con i principali partiti usciti i vincitori dalle urne per cercare di assemblare una maggioranza a livello federale, però a tutt'oggi ancora non si è approdati a nulla e molti paventano il fatto che il Belgio possa continuare a guidare l'Unione Europea senza di fatto avere un governo, addirittura alcuni si spingono a pronosticare la nascita dell'esecutivo addirittura all'inizio dell'anno prossimo, fatto salvo poi naturalmente che la crisi ovviamente non precipiti e che poi si arrivi appunto a quella redderazione in cui anticipavamo in principio che poi alla fine si vada verso una comune transizione confederale se non addirittura a un distacco una soluzione di tipo cecoslovacco quindi che separi le due entità del paese. Di fronte a questa situazione ovviamente cresce l'inquietudine, il marasma è piuttosto avvertibile diciamo in tutto lo sconcerto dell'opinione pubblica piuttosto evidente. Una questione che si innesta sul tema dell'elezione forse a qualche punto di congiunzione con un dibattito decennale sulle differenze tra le due comunità, quella francofona e quella fiamminga e il dibattito che è stato sollevato da due importanti personalità cattoliche della cultura belga tra cui c'è anche il presidente della locale sezione della comunità di Sant'Egidio. Praticamente questi due esponenti in un intervento pubblico affermano essere giunto il momento di porre mano ad un'amnistia per i collaborazioni, per quelle personalità che si erano macchiate di collaborazionismo con l'occupante tedesco durante la seconda guerra mondiale. A guardare bene è uno dei temi più che rimane sotto traccia diciamo della annosa polemica tra fiammingo e palloni perché durante la seconda guerra mondiale ovviamente i nazisti che occuparono il Belgio dal 1940 al 1945 tentarono di soffiare sull'odio etnico naturalmente cercando di contrapporre le due comunità e appoggiandosi molto ai fiamminghi a discapito dei francofoni della Vallonia. Naturalmente molti si prestarono a collaborare, ad aiutare i nazisti in questa politica e naturalmente il dibattito è rimasto sempre come una specie di pietra, di macigno che è pesato sui rapporti tra le due comunità, un po' come per ritornare alla Spagna, un po' come la questione del franchismo che è stata messa un po' da parte dalle varie forze politiche di buon accordo per evitare che risorgessero quelle pulsioni distruttive che purtroppo condussero la Spagna a quel che sappiamo è una sanguinosissima guerra civile, è una dittatura pesantissima di durata pluridecennale e quindi dicevamo che questi due intellettuali hanno giudicato che praticamente fosse giunto il momento di poter riparlare di questo tema a scomodo cercando di rimuovere uno di questi macigni che rende così potenzialmente conflittuale il rapporto tra i due principali componenti dello Stato belga, quindi cercare magari di recuperare un minimo di assetto unitario. Di fronte a questa proposta è interessante constatare come l'ex premier, nonché capo del partito socialista francofono Elio Di Rupo di chiara origine italiana e peraltro è stato anche precedentemente come qualche anno fa come avevamo accennato già premier di un governo di unità nazionale, dicevamo Elio Di Rupo che molti danno come possibile primo ministro di un governo di coalizione ma anche qualche vuol dire piuttosto presto per parlare ovviamente, diciamo prende posizione e fa un'apertura nel quotidiano Le Suare, principale quotidiano belga, lingua francese e afferma che ovviamente questa proposta è interessante se ne può discutere diciamo, infatti dice Di Rupo che l'amnistia può essere oggetto di una discussione approfondita in un quadro sereno dopo la formazione del governo, ovviamente che visto così potrebbe sembrare un'affermazione un po' dilatoria, però consideriamo appunto da chi proviene, appunto dal partito che ha fatto fino a qualche mese fa la difesa strenua dell'unitarismo belga alla sua bandiera. Negli ottimi mesi invece il partito socialista francofono si è aperto sia su questa questione che su quella delle riforme richieste a gran voce dai partiti fiamminghi, quindi ha fatto delle caute aperture nel senso di una revisione costituzionale che magari non potrà spingersi fino a livello del confederalismo, chiesto a gran voce dai fiamminghi, però comunque anche i socialisti valloni si rendono conto che lo Stato belga così com'è non può più continuare, non può più andare avanti. Anche perché notizia di qualche giorno fa, preoccupante, il debito pubblico belga dopo qualche anno di miglioramento ha di nuovo superato la soglia psicologica del 100% del PIL, quindi purtroppo i fondamentali economici vanno più aggravandosi anche in un quadro come quello belga che ricordiamo anche dal punto di vista economico è piuttosto particolare, nel senso che le fiandre si sono emancipate da quello Stato di arretratezza dei decenni passati sono diventate una delle principali potenze economiche europee, mentre la parte meridionale, la parte francofona, dopo il fallimento, la chiusura delle grandi industrie, soprattutto quelle legate all'estrazione del carbone ovviamente sono in una crisi molto profonda e basano molto sul mantenimento degli elevati standard di welfare conquistati nei decenni passati, quindi oltre al problema etnico e al peso del passato si innesca anche questa dinamica che come ben sappiamo mina alla base la possibilità dell'unità nazionale naturalmente. E quindi questo per quanto riguarda la posizione interessante dicevamo di Elio Di Ruppo, tra l'altro in questi giorni appunto insieme a De Weaver il suo omologo fiammingo è impegnato nelle consultazioni di governo che sono quanto di più spossante e di difficile esito possa esistere, è un rito molto levanchino che ha singolari analogie con certe prassi della prima Repubblica italiana. Invece sul suo stesso tema, cioè quello della possibile amnistia per i collaborazionisti dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e collaborazionisti belgi fiamminghi della Seconda Guerra Mondiale, c'è un durissimo editoriale sempre sul, anzi no, sulla Libre Belgique che è l'altro giornale di riferimento dell'area francofona in cui Jean-Paul de Chateau che è uno dei principali appunto editorialisti del giornale va giù durissimo e praticamente rispingere decisamente questa possibilità, affermando che praticamente l'amnistia costituirebbe uno schiaffo per tutti coloro che hanno combattuto il regime nazista ma sarebbe anche un segnale secrabile per tutte le generazioni attuali e quindi potremmo eventualmente perdonare a coloro che hanno commesso un crimine a condizione che si siano pentiti e che questo non è il caso purtroppo e non possiamo cancellare l'infamia, quindi sono toni piuttosto duri, piuttosto recisi che fanno intuire come in realtà questo discorso purtroppo continua a ferire l'anima del piccolo paese e naturalmente si continua dicendo che la guerra con numerosi esponenti, nazionalisti fiamminghi è più simbolica che storica naturalmente e anche terribilmente volgare, il vero obiettivo dei discendenti, dei collaborazionisti del 40 e 45 afferma, proseguendo con il tono piuttosto liquidatorio ed editorialista, dice che da recuperare ovviamente gli assegni e le ricchezze di cui essi affermano essere stati ingiustamente privati naturalmente con effetto retroattivo, ovviamente tutto ciò è francamente impensabile, non capiamo come alcuni quali siano le loro intenzioni si facciano fuorviare in questa direzione, quindi è un commento di una durezza piuttosto inusitata che va, sicuramente nei prossimi giorni riceverà ulteriori risposte, quindi sarà una questione che rimarrà nei prossimi giorni nel pieno del dibattito della politica belga, dove come dicevamo non mancano purtroppo, purtroppo gli argomenti difficili non mancano. Per tornare alle consultazioni, al mandato esplorativo di Elio Di Rupo per cercare di formare una coalizione di governo, quale che sia, per cercare di tirare un po' fuori il paese dall'impasso in cui si trova, c'è stato un problema nei giorni passati, praticamente alcune forze politiche si sono ritenute ingiustamente escluse dal tavolo delle consultazioni e hanno fatto la voce grossa, tra questi ci sono anche gli ecologisti, sia Fiamminghi che Valloni. Ricordiamo che il movimento ecologista in Belgio è una forza politica che ha avuto una crescita notevole negli ultimi anni e molto importante, per esempio in Vallonia gli ecologisti raggiungono delle cifre, consensi a due cifre, nel senso che nelle ultime elezioni sono riusciti a raggiungere percentuali attorno al 16-17%, mentre ovviamente nella zona Fiamminga i risultati sono stati un attimino più contenuti. Ovviamente i verdi hanno fatto la voce grossa, perché per uno spiacevole equivoco, gli omologhi Fiamminghi, i verdi Fiamminghi sono stati esclusi dal giro di consultazioni che prima De Wever e adesso Di Ruppo stanno intraprendendo per cercare di risolvere la questione della composizione del futuro governo belga. Oltre ai verdi naturalmente ci sono malumori in diversi altri partiti che sono un po' i sconfitti delle elezioni, che sono i liberali Fiamminghi che hanno visto il loro consenso cannibalizzato dal partito di Bart De Weaver, la nuova alleanza Fiamminga, e che era il partito guida dei precedenti governi belgi, guidati da Guy Ferovstad, e sono quei governi, per ricordare gli ascoltatori per esempio, hanno messo in atto la legge sull'eutanasia o anche altri interventi molto connotati in senso liberale per quanto riguarda tematiche, tra l'altro che ai radicali stanno molto a cuore, come l'eutanasia, la ricerca scientifica eccetera. I liberali comunque hanno subito questa sconfitta, ovviamente sono in pieno marasma interno e cercano una guida che sia più autorevole, come anche altro partito guida della zona Fiamminga, i democristiani che ovviamente anche loro hanno subito un forte ridimensionamento dopo essere stati un ago della bilancia dei precedenti governi. Ovviamente bisogna fare un po' i formatori, i due esploratori incaricati devono fare un po' la tara di queste difficoltà, devono cercare di giocare sulle varie esigenze per cercare di mettere giù un programma minimo, un minimo comune dei denominatori che possa cercare di far uscire il paese dalle sabbie mobili in cui è caduto da diversi anni. Ovviamente è la data che è stata posta come prima pietra migliare per questo processo di formazione del governo il 21 luglio che significativamente la festa nazionale del Belgio viene presa dagli stessi incaricati con molto beneficio di inventario, nel senso che affermano i due esploratori che naturalmente la data del 21 luglio non ha nulla a che vedere con la durata della loro missione, quindi conferma se ce ne fosse bisogno che purtroppo i tempi si allungheranno forse a dismisura ci ritroveremo paradossalmente dicevamo con un Belgio che è Presidente di turno dell'Unione Europea che non ha ancora un governo. Questo ovviamente ha offerto lo spunto per un intervento feroce dell'europarlamentare inglese indipendentista Nigel Farage del UKIP che è il partito che più si connota per essere anti-europeo se non eroscettico che nell'assise del Parlamento Europeo ha fatto notare il fatto che il Belgio può essere una specie di prototipo di quello che potrà avvenire all'Unione Europea, ovvero un paese che non ha un governo e che rischia da un momento all'altro di implodere lasciando libero corso alle istanze nazionali. Ovviamente ognuno può farsi l'idea che vuole delle affermazioni di Farage, però dobbiamo dire che effettivamente un certo grado di attendibilità lo hanno, vista la situazione che si sta venendo a creare negli ultimi mesi, effettivamente sembra che sia piuttosto attendibile. Dunque questo è più o meno il quadro dei giornali che avevamo oggi, naturalmente una rassegna stampa piuttosto contenuta, abbiamo focalizzato su due situazioni che ritenevamo interessanti, naturalmente poi nelle puntate successive cercheremo di offrire un quadro un attimino più esaustivo naturalmente con tutta la panoplia degli interventi, dei giornali, dei quotidiani anglosassoni, cercheremo magari di rendere il format un attimino meno paludato, magari inserendo altri elementi come una veloce rassegna di alcuni blog significativi appunto di internazionali e magari con qualche video, insomma, per animare un attimino la rassegna stampa. E quindi niente, a questo punto io passerei la palla a Roberto. Roberto? Sì. Allora, siamo quindi alla fine della rassegna stampa, naturalmente io vi rimando alla settimana prossima, domenica prossima. Ma tu resti qui con me, vero? Ovviamente io resterò assieme a Roberto perché abbiamo un programma, abbiamo un palinzesto serrato intensissimo e mi ripropongo naturalmente a intervenire nei prossimi spazi. Grazie a tutti per il momento. Facciamo anche questo cambio di poltrona? Ok. Grazie. Allora, innanzitutto diciamo a tutti che non sta bene, perciò non lo diciamo. Allora, la prima cosa da dire è questa. A questo punto sarebbe previsto il collegamento con Sergio Rovasio per un filo diretto. Ho parlato con Sergio dieci minuti fa il quale mi ha detto che era impegnato per un impegno sorta all'ultimo momento e che per questa ragione mi chiedeva se era possibile rimandare il collegamento alle ore 19. Io gli ho detto che non c'era nessun problema, quindi la notizia è che la diretta prosegue e facciamo venire anche Salvatore nell'inquadratura. La diretta prosegue fino alle ore 20. Allora, c'erano Salvatore alcune sollecitazioni, alcune domande che provenivano dalla chat. Ma purtroppo non ho avuto modo di dare occhio alla chat perché è impegnato con la lettura dei quotidiani. Lo mettiamo qui così riusciamo a parlare tutte e due. Perfetto, magari la prossima volta cercheremo un po' di oliare la macchina. Sì, ma infatti siamo attrezzati con questo bellissimo auricolare che mi ricorda dei momenti fantastici. Sono momenti diciamo, l'eroismo dei pionieri. L'eroismo dei pionieri. No, allora, leggiamo dalla chat che c'erano alcune stimolazioni. Allora, innanzitutto Gianni chiede a Claudio, sapresti spiegarmi la differenza tra il regionalismo italico e il localismo della Spagna? Bella domanda. Diciamo che il regionalismo spagnolo, consideriamo innanzitutto il fatto che in Spagna esistono delle realtà che sono, non dico ultrone al corpo della nazione spagnola, usiamo una terminologia piuttosto di altre culture, però non vuole essere usata in quell'accezione, non in chiave nazionale che ovviamente ho delle posizioni tendenzialmente antinazionaliste, quindi ben lungi da me mutuare questo linguaggio con questa connotazione. Dunque dicevo appunto, ci sono delle realtà che sono ultrone al cuore della comunità spagnola, per esempio i Paesi Baschi ovviamente sono una zona, sono una regione che si differenzia dal cuore della Spagna per motivi linguistici, per motivi culturali, insomma sono una realtà a sé stante e il discorso appunto che riguarda le province basche è quello portato avanti dai partiti locali, non tanto di un regionalismo quanto di un vero e proprio indipendentismo. Negli ultimi decenni la lungimiranza dei governi democratici spagnoli ha fatto sì che si riuscisse riuscire a salvare un po' le esigenze dell'autonomia locale con quelle veleità appunto indipendentiste di comunità che appunto come dicevo hanno una storia che poco si identifica con la nazione spagnola. Analogamente il discorso della Catalogna, il discorso della Catalogna che è centrale in questi mesi e praticamente come accennavo appunto la questione nella politica spagnola attuale oltre alla crisi economica è quella delle spinte sempre più forti, separatiste che vengono dalla Catalogna, anche qui ovviamente il discorso affonda le origini, le proprie origini nella storia spagnola perché come ben sappiamo la Spagna nasce come unione dei due principali regni, la Castiglia e l'Aragona che appunto si riunirono alla fine del Medioevo, all'inizio dell'evo moderno per dare origine all'assetto spagnolo, quindi ovviamente pur mantenendo ovviamente la propria autonomia. È andata avanti fino alla fine dell'Ottocento, poi dall'inizio del Novecento naturalmente la Catalogna si è vista un attimino schiacciata dal potere castigliano e quindi ha ricominciato a richiedere ad alta voce un'autonomia molto più pronunciata fino a spingersi appunto verso posizioni che sono francamente insomma chiaramente indipendentiste. Il regionalismo italico, per quanto riguarda il regionalismo italico, insomma esistono anche in Italia, poi magari ne parleremo anche con l'ospite con Leonardo Facco che avremo ospite più tardi, ricordiamo dalle 17-18 l'amministratore del Movimento Libertario, ricordiamo che esistono anche in Italia dei movimenti dipendentisti molto, alcuni minoritari, però alcuni hanno avuto un esito, hanno avuto risultati elettorali molto interessanti, io per esempio ho scritto un articolo qualche settimana fa sulla performance straordinaria degli indipendentisti sardi, cioè in Sardegna per esempio c'è un partito che si chiama Indipendenza Repubblica di Sardegna, nato nel 2002, che piano piano l'MLM è riuscito a portare dei suoi rappresentanti nell'amministrazione locale a livello provinciale, non ancora a livello regionale, però per esempio nelle ultime elezioni è riuscito ad arrivare attorno al 4% e comincia a diventare una forza abbastanza importante. Per fare un parallelo il partito indipendentista Sardegna, per esempio, si ispira molto ai partiti autonomisti verso barra indipendentisti della Catalogna, praticamente reclama, diciamo, no, uno statuto speciale ovviamente c'è già, però reclama appunto una soluzione più radicalmente indipendentista dall'Unione Nazionale. Quindi è un problema, è una questione che sta sorgendo anche da noi in Italia. Fatta la tara ovviamente consideriamo, non possiamo non considerare in questo ambito l'influenza che ha avuto la Lega, io direi l'influenza più negativa che positiva nell'ultimo ventegno, non me ne vogliono magari i pochi leghisti all'ascolto, insomma, mi auguro che siano molti, però non credo, insomma, riscuoteremo un grande consenso tra gli amici leghisti. C'è una domanda molto interessante da parte di Gianni, perché la Spagna che esce da una dittatura da 25 anni sta meglio dell'Italia, che ne è uscita la 60? Bella domanda. Secondo te perché? Allora, guarda Gianni, forse, guarda, la dittatura spagnola adesso vorrei essere, non vorrei nemmeno apparire troppo politicamente scorretto, però io ti dirò che, vabbè, a parte la fase dolorosissima della guerra civile, dell'8 settembre, della lotta partigiana, eccetera, eccetera, l'opinione unanime che molti storici sono fatti è che la dittatura franchista sia stata molto, ma molto più feroce di quella fascista, nel senso che subito dopo la fine della guerra civile del 36-39 ci fu un vero e proprio, diciamo, un vero e proprio genocidio, nel senso che furono centinaia di migliaia, oltre ai morti della guerra civile, furono centinaia di migliaia i morti ammazzati dal nuovo governo militare fascista di Franco, insomma, che non erano solamente comunisti, socialisti, ma addirittura, per esempio, in terre comunità cattoliche, appunto dei paesi baschi o di altre zone della Spagna furono passati per le armi, quindi era un carattere, diciamo, affondava molto, secondo me, molto più i bisturi nella società spagnola rispetto al fascismo, che bene o male, poi ha lasciato dei cascami, cioè, io ricordo che Giuliano Amato qualche anno fa disse ai microfoni di Radio Radicale, quindi rimane agli atti, che c'è sostanziale continuità tra il regime fascista e il regime partitocratico, tra virgolette democratico, di questo sessantennio, salvo poi naturalmente cambiare, insomma, negare quello che era stato dichiarato. E ci è arrivato Giuliano Amato, ci siamo arrivati anche noi, noi consideriamo, ad esempio, che in Italia c'è l'articolo 7 e 8 della Costituzione, noi diciamo che la Costituzione è intoccabile, secondo alcuni non lo è, secondo altri, secondo la maggioranza sì, però ricordiamo che in Costituzione c'è l'articolo 7 e l'articolo 8 che riprendono pari pari, no? Il concordato clerico-fascista del 29, quindi, diciamo, il fascismo italiano ha lasciato più tossine nella società italiana rispetto all'enormità della crudeltà del governo franchista in Spagna. Ed è per questo che il franchismo è stato, è morto così dall'oggi al dittatore, è stato unanimemente, come dicevamo prima, per consenso generale di tutte le forze politiche, conservatrici, socialisti, eccetera, è stato rimosso come una specie di spauracchio, da non evocare mai, quindi è stato visto come una specie di esorcismo, ecco, il passaggio alla democrazia in Spagna dal franchismo alla democrazia è stata una specie di rito esorcistico, mentre in Italia sostanzialmente, per usare una terminologia che a noi è radicale e cara, il regime fascista in Italia in realtà non è mai completamente morto, bensì ha costituito, come purtroppo diceva anche, se non mi sbaglio, che era Gobetti, no? Diceva che il fascismo è l'autobiografia di una nazione, purtroppo continua ad essere tale, quindi ho cercato di rispondere magari un po'. Bene, allora, siccome Salvatore ha qui questo bellissimo e fantastico caffè che ormai sarà diventato, no, c'è ancora il ghiaccio quindi è fresco, lasciamo bere il caffè a Salvatore e intanto mandiamo ancora una volta allo spotter che abbiamo questo buco da riempire e dopodiché vediamo se è possibile stabilire, anticipare il collegamento con Matteo Mainardi da Pesaro. Il caffè ovviamente alla stecnina, no? Il caffè alla stecnina, naturalmente. Così si taccerà per sempre. Così si taccerà per sempre. Allora, mandiamo un attimo il video, il pubblicitario e poi dopo ritorniamo in diretta con il collegamento con Matteo Mainardi.